Ciao a tutti da Andrea della Selle di Brescia, vi mostrerò oggi le principali caratteristiche del nuovo prodotto Alpine ILX-F903D, dotato di un display di 9 pollici capacitivo, regolabile in altezza ed in profondità, permettendo quindi l'installazione del prodotto su svariati modelli di vettura. Ora siamo in modalità demo, il prodotto oltre alle classiche funzioni radio DAB, permette l'utilizzo dell'Apple CarPlay e della funzione Android Auto, utili sia per Spotify, Whatsapp e ovviamente per la navigazione online. È dotato di una tastiera posizionata nella parte inferiore, cabina, il menu principale. Possiamo andare a eseguire varie personalizzazioni, quanto riguarda ad esempio il colore di sfondo dello schermo, la luminosità e quindi personalizzarlo al meglio a seconda del modello di vettura. Ovviamente è dotato della funzione Bluetooth Viva Voce, con anche audio streaming. ed è personalizzabile anche dal punto di vista acustico, con ovviamente regolazioni riguardante il bus engine, equalizzazioni preimpostate o personalizzabili. Qui troviamo il pulsante del comando vocale, utilissimo per le funzioni Viva Voce e anche appunto per l'assistente di Google e Siri. La possibilità di essere regolato con un'inclinazione personalizzata, come dicevamo prima, permette l'installazione sui numerosi modelli di vettura. L'inclinazione viene poi mantenuta fissando il prodotto, non è poi inclinabile in maniera personalizzata dall'utente finale, ma va quindi impostata in fase di installazione, ma permette appunto di evitare vibrazioni dello schermo in movimento. E quindi ad esempio, non so, sull'Androver Defender, sul Cuneo Ferrari o Porsche, dove appunto sono vetture rigide e di conseguenza le vibrazioni diventano fastidiose, diventa un ottimo prodotto. O ad esempio su Volkswagen T5 e T6, dove l'inclinazione dei raggi solari cade sempre sul monitor e in questo caso si può appunto eliminare il problema. Se anche voi siete interessati a questo prodotto e a installare sulla vostra autovettura, non esitate a contattarsi per un preventivo gratuito. Io sono Andrea della Sen di Brescia e il nostro sito è www.sicarshop.it. Un saluto a tutti!